Pierluigi Bonora è il fondatore di Forum Automotive, Forum Automotive che ha giunto alla sua terza edizione ma che ha visto nel tempo una crescita importante perché il suo impegno inizia proprio dieci anni fa. Quest'anno il claim è abbastanza identificativo, la mobilità motore guarda avanti, dove sta guardando? Beh guarda al futuro, un futuro anche molto presente a differenza invece delle infrastrutture, c'è il mondo dell'automotive avanti anni luce rispetto a un mondo dell'infrastruttura che è fermissimo, l'esempio più banale sono le buche, le strade groviera che stiamo vivendo dopo un inverno piuttosto rigido. Si parla tanto di guida automatica, di guida autonoma, di elettrificazione, tutte belle cose che da una parte esistono già ma dall'altra se ne parla solamente, sono fatti un sacco di tavoli senza arrivare a risultati concreti. Se non ci fosse stata per esempio l'Enel nel creare una rete di ricarica graduale in Italia che è in pieno corso, saremmo ancora qui a parlare di auto elettrica ma se poi non c'è dove ricaricarla il problema esiste. E lo stesso vale per la guida autonoma, le smart city è altro tema molto centrale delle discussioni però se non si creano anche qui le infrastrutture capaci di dialogare con l'automobile, con la moto, allora siamo appunto da capo. La mobilità vive una rivoluzione che arriva dal basso perché è alla fine l'utente finale che desidera muoversi in altro modo. Mi sto riferendo allo sharing, mi sto riferendo al carpooling, ci sono oggi tanti mezzi e tanti strumenti e tante modalità per muoversi. Le case automobilistiche si sono fatte trovare pronte? Beh sì, molto pronte sulla condivisione. La condivisione ormai è una realtà da anni e come il settore di cui parlavamo prima è in piena evoluzione. Tant'è che il car sharing adesso sta perdendo un po' di punti a favore del carpooling. C'è la mobilità condivisa, sta entrando fortemente nelle aziende, viene usata dalle stesse aziende come benefit, come elemento di welfare aziendale. E se il dipendente raggiunge il posto di lavoro caricando sulla propria vettura altri colleghi, viene premiato, le spede vengono condivise, ma viene premiato anche dall'azienda, magari con il posto auto gratuito o con altri benefici. Quindi è una realtà in pieno sviluppo, in piena evoluzione e anche qui giocano molto a favore le nuove tecnologie sulla guida assistita e sulla elettrificazione. Dunque l'importante è muoversi proprio come il forum automotive. Grazie mille. Per Snam4Mobility Andrea Ricci. Allora, come potrebbe condensare l'esperienza qui al forum dell'automotive? Direi un'esperienza interessante, un dibattito aperto, diciamo dei punti di vista diversi, magari da quelli che si sentono in altri forum un po' più ecologic oriented. Però devo dire, ci sono diversi punti di vista e qui ne è emerso uno che vale la pena di tenere a conto, perché se si tratta di chi di veicoli ne capisce. Ecco, abbiamo parlato anche di quelle che potrebbero essere le caratteristiche del futuro dell'automobile. Per quanto riguarda Snam, qual è la vostra posizione? Come lo immaginate il futuro, soprattutto guardando a quelli che sono i grandi cambiamenti relativi all'alimentazione? Allora, il futuro è vario pinto. È chiaro che l'elettrico piano piano guadagnerà terreno, soprattutto sul corto raggio. Il gas naturale ha un grande ruolo da giocare, perché è più pulito di tutti gli altri carburanti che ci sono in giro, perché può essere rinnovabile attraverso il biometano e perché ormai la tecnologia è sviluppata, quindi i veicoli sono eccezionali. Se provate i veicoli premium a CNG che ci sono in giro adesso, sono veramente estremamente funzionali, sono silenziosissimi, prestazioni pari o superiori a benzina e gasolio, quindi ci siamo. Grazie mille. Gianmarco Giorda è il direttore dell'Anfia, Anfia sempre presente al forum dell'automotive. Quest'anno qual è il metro di giudizio del mondo dell'auto? Innanzitutto è sempre un piacere per noi partecipare a questo evento, perché è importante per condividere anche con altri stakeholders, altri soggetti che lavorano nel settore, tutta una serie di base practice, di analisi anche di temi che sono strategi per il settore. Direi che in questi due giorni due sono stati i temi principali che abbiamo discorso e che rientreranno poi anche nell'agenda delle priorità dei prossimi anni per il settore. Uno è l'autoconnessa e l'altro è il tema del diesel e dello sviluppo anche delle alimentazioni alternative. Sono temi caldissimi entrambi. Il futuro come lo vede Anfia? Sicuramente vediamo un futuro che è già un presente connesso, nel senso che le tecnologie dell'auto connessa sono già ben presenti nel nostro mondo, per cui la maggior parte delle auto hanno già tutta una serie di device legati in qualche modo al tema della connessione dell'informabilità. Il tema della guida autonoma è un qualcosa che ha da venire, siamo a un livello 3, bisogna arrivare al livello 5, ci vorranno almeno 10 anni prima di arrivare ad una vettura quasi totalmente autonoma. Sul tema invece delle alimentazioni alternative vediamo nei prossimi anni ancora la coesistenza di alimentazioni alternative con alimentazioni invece tradizionali. Sicuramente ci sarà uno sviluppo dell'elettrico nei prossimi anni, ma secondo il nostro parere l'ibrido sarà la tecnologia ponte per arrivare all'elettrico, ma rimarrà comunque una quota importante anche di mercato sui motori a combustione interna, per cui diesel e benzina, e in Italia continua ad avere un ruolo importante anche il metano e il GPL. Grazie mille. Silvia Nicolis è presidente del Museo Nicolis, che racconta la storia dell'automobile. Cosa significa oggi gestire un museo? Ma è un'esperienza bellissima, devo dire che è molto impegnativo perché comunque trasferire la cultura dell'automobile non è molto semplice in tempi in cui tutti si concentrano sulle innovazioni più attuali, però è una grande responsabilità perché comunque noi trasferiamo anche l'importanza del nostro paese nello sviluppo dell'automotive nel corso appunto della sua storia. L'Italia ha avuto veramente grandi primati e soprattutto nel collezionismo in tutto il mondo oggi si evidenziano molto i prodotti italiani, quindi si parla di manufatto, artigianato, unicità, design che ancora oggi tutto il mondo ci invidia. Ecco, nella tavola rotonda del forum automotive di quest'anno si è parlato anche di donne, donne al volante e le differenze con il mondo maschile. Io chiedo, dal suo punto di vista, quindi la gestione di una realtà così importante, e invece quanto conta la sensibilità femminile? Ma io lo dicevo anche prima, è fondamentale nel senso che le emozioni che sappiamo trasferire, ma anche le abilità di mediazione che abbiamo, riescono a coinvolgere un pubblico molto vasto e soprattutto a creare un'empatia importante col mondo maschile. Io lavoro sempre con il mondo maschile, mi trovo molto bene, proprio perché in realtà questa commissione di qualità crea grandi risultati. Quindi io sono per l'equilibrio e anche per lo scambio di competenze e di valori tra i vari mondi, non ne faccio mai una questione di genere e trovo insomma che sia vincente. Grazie a voi.